ben ritrovati ragazzi ciao ragazzi giochiamo fiorentina inter mess di cartello si può dire insieme ce ne sono tanti in questa giornata perché c'è anche atalanta lazio roma napoli possiamo fare anche dopo volendo la lazio o l'atalanta tanto godiamoci fiorentina inter esatto cominciamo subito anche perché il tempo è tiranno è difficile farne tante esatto qui si lavora purtroppo si lavora tutte le parti è bella giornata di soldi partiti forza inter non vai mai pensato di diamo nella mia vita no ma è tristissimo direi c'è se ti fanno sono scatenato si rigore sull'auti rigore sull'auti no 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 e le caccio di rig ah boh cos'è è giusto ma stardi volevano rigore ma dove fanno ma manca lo stifo è già un furto non c'è niente infatti io ero tranquillo io ero abbastanza tranquillo poi mi sono cagato d'osso ma scusa ma che fanno qua non c'era niente su lo sai anche tu che non c'era nulla mi sono reinventato si mettono i rigori è proprio invenzione allora più fanno questo in questi momenti lo salta come un ah boh vai vai grazie Fiorentina non è mica facile buono lo tiene lo capisce al volo bravissimo chiudere Anastasi Sisi Maria uno due bellissimo Josè e vacca e questo cos'è niente questo un falletto lo petano in due niente non passa si va ancora si riprova ma vacca che sfighe c'è dovreste uscire dall'aria dai Firenze eeeh lo toro il toro il toro il toro il toro ma cos'è il toro ma cos'è 8 minuti di pressione ma si ho capito ma come lo becchi dai lo chiude è chiuso niente vacca buttala via niente ha voluto dribblare il toro ragazzi bella maniera il dribbling anche se tenessi figa non so il fiorenzuolo anziché la fiorentina io no devo dribblare vabbè la maniera è così bisogna di farci bella maniera però interveniamo un po' l'amore per piacere perché subito Fiorentina ancora a cercare di pareggiare la partita con il cuore dai su puttana ragazzi era difficilissimo dammi Fiorentina che bella sventolina ma ci mi sa saltare giù lo stadio Franchi infatti applausi che scroscia in una maniera incredibile ma va che bello ma che bravo devi cercare di grottare su ogni pallone ma che niente ragazzi ci saranno degli sprazzi viola ogni tanto sprazzi di colore viola ed interventi bellissimi come questo ma che bella ahhh ragazzi meritiamo un po' però e vaga sveglia no no dai che sei amicato a dranta a piacere ahhh sfondo la porta ma sta beneficentemente come ha fatto sbagliata come ha fatto sbagliata come ha fatto un lancio bellissimo ma chi fa un lancio del genere ma è impossibile era perfetto quel lancio lì ma che incredibile non c'è nulla ma va che cosa non fischia cercano di rubare anche qua che precisione è qua che roba che roba che roba che roba che roba la mia gamba in mezzo alle mani non c'è nulla dai sbaglialo che non manno neanche monito sbaglialo sbaglio che roba ottimo errore va bene siamo ancora in partita per un errore sul cash di punizione tirate un non molto bene ma siamo bene dov'è oh vabbè devo sparare su è vostra eh no siamo bicicletti ma non è vostra ah ah grazie ah 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 pensavo fosse fuori tanaeva spazzato con il mio taglio no vai a pudare pedale di puta e puttalo un po' su guarda che bel fraseggio ma dove sei però bravo quel fraseggio e allora ci sei con le palle e si che ci sei vai vai sfondalo e vada che anticipo bravo ragazzo mamma mia ah ah che regia e vada che pote niente che schifo no cos'è sta roba a caso bravo niente non c'è ma che bravo smettili di fraseggiare no aaaah troppo culo deve segnare altri costi no ce la fa va bene si riparte qua ragazzi bravissimo dai dai compagno no cosi fatti vedere e vada che roba rimpagni di culo atomico stava facendo un fraseggio bellissimo invece mi va puttane per un rimpallo atomico ma che bravo bravissimo no bravissimo bravissimo no, un po' di fio dai chiudilo bravo 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 Lauti! Bravo, bravo! Oh, che una roba brutta! Ponte ovunque! Ponte ovunque, hai ragione! Ponte ovunque! Vai, Lauti! Ma che fallo! Bravo! Cos'è che c'è? Ma che fallo, hai mantenuto! Vai cagare, va! Che fallo è? Guarda qua la mano! Guarda la mano! Strangolare! Veramente è un piede in bocca! Vabbè dai qua è impossibile! Sbaglia! Fa culo! Ma dai Massimo, cosa ti tuffi? Ma ti tuffi anche per quella roba qua? No no! Dai, chiudi! Bravo! Bravo! Ah, chi? Ma chi l'hai data? Mi dici chi l'hai data? Niente, lo schifo! Io non fanno niente, non fanno! È un bel lancio, ma sono da solo come un cane! A chi sorriderà! L'ho trovato! L'ho trovato! L'ho trovato! Ma che fine! Fa che lo è! Schiauti! Ragazzi! Non si riesce! Non si riesce! Mette la partita in ghiaccio! Non siamo concentrati! È troppo difficile andarci! Un minazzo! Non riusciamo a fare il nostro zona! Ragazzi siete troppo inferiori ragazzi! No, l'inter! Spettinato! Ah, ma chi deve faseggiare con nessuno! È solo l'inter! Dove va a fare? E la mi fate schifo! Fate schifo! Non arrivano mai! Un minuto di pressa ragazzi! Fate veramente scacazzare! Due tiri e due gol eh! Tutti uguali! Non è che hai fatto questa Inter splendida! Due tiri e due gol! Solo Inter! Due tiri e due gol! No ragazzi! Dai da sciopi si può più di pressa! Infatti non canterò più! Non c'è un ko! Ammutoli! E' vero stabile! Tifosi! Ma che mi da fare? Che pazzo che roba! E' l'inco mezzo! Non c'è nessuno! No ragazzi! Non c'è nessuno! Riusciamo a fare un faseggio? Un mezzo? Magari? Niente! Sono già qua in pressione! Devo drillare in posizioni disumane per riuscire a fare una flora! E' fallo! Ma che roba! Mi sono girato! Mi sono girato! Di Arezza! Mi sono girato le spalle! Quindi continua a montarmi! Un fisico atomico! Era una sventola bellissima! Che meritava di più! Questa è la Pasquez! Meritava di più la sventola di prima! L'azione fantastica proprio qua! Questa è una fantastica! L'azione fantastica! Era bellissima! Ma almeno che Leon ce la può fare? Che roba? Un lungo del cazzo. Ma se c'è un gol mi salto un po', ma senza fare niente. Dai, smettali! Dai! Prese! Che schifo! Giuseppe! Maria! Leon! Che ridà la speranza, l'umicino, spizzino e contro spizzino l'incroccino. E ci dà il moralino. Guardatevi. Spizzino e il doppio spizzino. Pum! Giuseppe Maria, imparabile. La speranzina. Angolo regalato. Angolo regalato, gol fortunato. Angolo regalato. Guardate, mariettina, c'è ancora una speranza. Se non fanno una traccia, speranza. Chiudere, chiudere, chiudere! Dai, Susanne. Maria. Che è meglio. Guarda che bravo ragazzo, da solo con i due addosso. Cerca di farsi valere, che bravo ragazzo. E' già il cazzo di pulizzo! E lo trova! E ora lo dobbiamo fare! Dobbiamo metterlo nel culetto. Guardate com'è. Blaurich. Gli dà! Voleria! È giusto? È giusto? È giusto? Già che via. Rite! No! Marca, puttano sbagliato, una punizione terribile. Una bella Fiorentina ora! Cerca il colpascio! No, marca che schifo! E' poterlo! Poterlo! Bravissimo! E' marca che bravo! Si però ci arrivi! Bravo! E' una buona Fiorentina che attacca! E' sponbattuto! Ma che ti sfiga! No, incadibili! Bravi! Dio Fiorentini bravi! Super bravi adesso! Si trova... Ma che mi mori veramente! Ma che ti sfiga Fiorentina! No, veramente incredibile la sfiga! Guarda, lo spetta! L'inserimento bellissimo! Il tiro! E' la sfiga! Dice di no alla Fiorentina! Incredibile! Fiorentina che ha fatto nulla fino ad adesso, dopo il gol di José, si esalta! Si becca un palo terribile! Che fate prima! E' più da meno! Mi dice di no! Dice di no! Dice di no! Cazzo! José! José si invola! José se ne va! José! A vacca! Sarà nostra la missione dopo! Ma non serve perché facciamo cosa diversamente! Con un spizzinarete! Ehi! No! Sì, ma il fallo? Per prima no eh! Ma che fallo! Non lo sa più adesso! Niente, la Fiorentina! Che ora attacca! E ora vedi la luce in fondo del tunnel! Ehi! Ehi! Ma che sfiga! E' affalto però eh! No ragazzi siete bravi! Siete bravi ragazzi siete! Che cercano di tutto! Cercano! No! E' Giuse Maria! Che riconquista! Scambio uno e due! E l'ha incombonato! Ehi! Eh vacca che roba è! E' una buca folla! Cancuno! La speranza è ancora viva! 20 minuti di sofferenza per l'inpa! Che viene munito! Eh vacca che roba! L'ho munito da due ore fa! Tre ore fa fece questo fallo! Che roba! E finalmente viene punito dopo tre anni! E' il fiore! Oh Fiorentina! Nananana! 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 Oh Fiorentina! Prendiamo la pallina! E facciamo un' azioncina! Esaltatissima Fiorentina! Mi parla di via! Vabbè! Mimicchiamo! Chiuso! Bene! E se ricomincia! Niente! Uno spito! Cos'è? Fuori sciocco! Ma che lavoro! Ma che lavoro! Ma che lavoro! Ehi! Ehi! Dei millimetros! E già abbiamo lo spazzina! dai vai o no? bravissimo! un calcio di rigolo sarebbe? non ci credo la parata ancora non ci credo potevamo andare in parità è incredibile la spaventina sfighina dai bravissimi no basta che roba chiudilo lì ammazzalo e guarda che sfigao lui è finito il campo eh? lo trovo! che roba un secondo tempo diversissimo di questa viola veramente bravi che roba che roba? non si si fa un dribbio un po' subito che bravo ragazzo ma che schifo di passaggio hai fatto? io sei un idiota veramente io non mi era cagato ma questo è imperioso bravissimo! va che marabacicicoco dai! direi se! dai! dai! ah no! no! veramente una specie incredibile! qua in aria lo stavo per tirare ma figa! è terribile! Allora dove vai, per nespole, dove è la palla, si può vederla, che roba, non la vedo più, non so più doveva la palla, è fallo, è fallo, vabbè ma figa, stiamo cercando di fare gli ultimi guizzi, di recupero palla, cosa possiamo fare, in Florentina, qui siamo il Madrid, che fa che non c'è, non è andato, dai recuperare sto pallone, in cielo, eh che bello, bravissimo, è fallo, ora ha fatto tutta la vita quello lì, esisti? Ah vacca, bellissimo, bravissimo, niente non siga trocci ragazzi, purtroppo abbiamo fatto il possibile, venga, venga dove va, pizza di, pizza ragù, ci va, cosa è? L'abbò fa un giro, perché che sfigura è? Mamma mia, ecco, anche fallo, un po' solamente, su una barabacicicco ha prima, finisce a te, Shuuu! Perugia? Che bella ripartenza! Non fate che ommico, ma che contropiede! Brozovi saluta! Ma è finita la partita! Epic Brozo! Il Brozo viene espulso! Vabbè, è finito! Vabbè, è pure quello lì, è anche finito! Purtroppo, vabbè! Ma se non mi piacevo farlo! Intelligente! E' incredibile! Abbiamo subito il primo tempo, due gol di Lautaro e poi tutta viola! Buon Lauti! Che incredibile! E la portiamo a casa! Eh, la portiamo a casa, figa! Guardate i fiomentini scontenti! Le boeuf! Guardate le facce, tristi! Sì! La forza! L'intervano il pareggio lungo un metro! Le statistiche lo diranno però! Eh, ma anche che stifo! Scusate, è uno scandalo eh! Sette tiri della viola, undici in totale! Cinque soli dell'Inter con tre in totale! Abbiamo fatto due gol con tre tiri in totale! Abbiamo amministrato il bottino del primo tempo! Ah, lo so! Ah, lo so! Il primo tempo è umiliante! Possesso, sette tiri a tre ma non riusciamo a fare due gol! Sette tiri in porta, un gol! Ragazzi! Dai! Incredibile! Va bene, finite questi voti! L'auto di sette e mezzo! Eh beh, per forza! Ho vinto la partita da lui! Va bene, finito! Vi salutiamo ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ciao! Ciao!